Siamo al campo di scuola di Stromboli per i ragazzi per la protezione civile, ci siamo con molto piacere, devo dire che non credo sia sfiorata a nessuno l'idea, soprattutto agli organizzatori di spostare questa attività nonostante questi siano stati dei giorni di particolare attenzione, questo perché credo che debba passare il messaggio con questa giornata di oggi e le prossime passerà ancora più forte, che noi dobbiamo abituarci a una relazione con il vulcano e con l'isola che ci vede impegnato in una costante attenzione, che fatti emergenziali non devono essere considerati tali, ma devono essere considerati come dei fatti naturali che bisogna avere la capacità di affrontare nel modo migliore e questo di istruire i bambini sul quale sia il modo migliore credo che sia l'investimento assolutamente più produttivo e più pagante, non soltanto perché con le nuove generazioni si ha anche una capacità, una possibilità di far percepire il messaggio in modo non distorto e non prevenuto, per cui è anche più semplice farlo, veicolarlo nel modo migliore, ma anche perché l'investimento paga assolutamente, perché questi bambini se giustamente motivati come lo sono questi e io oggi l'ho potuto notare, saranno sicuramente il veicolo migliore e il veicolo più efficace per trasmettere anche alle loro famiglie, se non ai loro coetanei, i comportamenti più idoni da tenere in caso di un evento calamitoso.